Dopo un negoziato fiume durato oltre 36 ore, le istituzioni europee hanno raggiunto un accordo sul cosiddetto AI Act, la normativa europea che disciplinerà l'intelligenza artificiale. Si tratta della prima volta al mondo che viene approvata una legge ad hoc che punta a definire limiti e regole per un settore il cui sviluppo apre nuovi orizzonti, ma fa sorgere anche una serie di timori. Abbiamo un obiettivo, di rendere una legislazione che garantirà che l'ecosistema dell'AI in Europa si sviluppasse con un approccio di uman centrico rispetto ai fondamentali e ai valori europei, di creare credito, di creare conoscenza di come possiamo riuscire la migliore di questa rivoluzione dell'AI che sta succedendo prima di noi. Obiettivo della normativa è garantire che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale non leda i diritti, la democrazia e la sostenibilità ambientale, senza far mancare però il sostegno all'innovazione.